Il World Pasta Day a Matera si festeggia riscoprendo le antiche tradizioni della cucina lucana con un contest che vede 10 giovanissimi chef di 5 istituti alberghieri impegnati ad impastare 5 tipologie di pasta lucana frizzuli, cavatelli, fusilli, manate e laganelle, la più antica. A insegnare ai ragazzi segreti di questi storici formati di pasta fatti a mano 5 custodi delle antiche tradizioni lucane. L'iniziativa è promossa dallo chef che ha incantato l'America, ambasciatore della cucina italiana nel mondo, Luigi Diotaiuti. Competono tra di loro con delle paste che sono state sorteggiate e loro andanno a verificare che i ragazzi veramente sanno fare la pasta proprio per proteggere, per passare alle nuove generazioni che io considero poi i nostri futuri ambasciatori per mantenere la tradizione sempre vive. Concetta Buongiorno è una delle 5 custodi lucane. A lei è affidato il compito di impastare la lagana antica sfoglia. Una sfoglia di pasta che poi è molto antica, veloce, si impasta con acqua, sale e farina e di solito lo si faceva quando si tornava dai campi. Lo chef Diotaiuti non ha mai dimenticato le sue origini lucane e nel suo ristorante di Washington, al tiramisù, fa rivivere con sapori e profumi della tradizione culinaria italiana molto apprezzata oltreoceano.